Grazie a tutti per essere stati con noi, vi auguriamo un buon seguimento, un buon seguimento. Ricordo che dalla seconda metà di Gimignolo ci ha la campagna, vi aspettiamo a casa. Fate una buona estate e sempre Forza Juve! Un saluto speciale a tutti voi che hanno portato anche in questa stagione, credo sicuramente Forza Juve d'Evvento, dalla squadra di sicurezza, l'assistente personale Tecnic, un saluto particolare da Sportaccio a tutti voi. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!